Il capozza rimane estregato e contro il gladiator finisce 3-3. Mister Costantino cambia modulo e sceglie il 3-5-2 con una robusta mediana. Dall'altra parte i campani si affidano al tridente composto da tedesco Squersanti e Nicolau. Pronti via la partita si mette subito in discesa per i padroni di casa con il gol di Bursio che prima vince un contrasto e poi supera Buffano con un piatto sinistro. Gli ospedi però non si disuniscono e trovano il pareggio con il colpo di testa di Mele lasciato colpevolmente solo dalla difesa rosso-azzurra. La situazione di parità dura però pochi minuti perché al 31esimo Saraniti è il più lesto a sfruttare un'incomprensione tra De Caro e Buffano e ribadisce in rete il pallone del nuovo vantaggio. Al 44esimo però sul cross di Tomi il pallone colpisce prima la traversa e poi il braccio destro di Caro tenuto e termina in porta. Nel secondo tempo per vivere la prima emozione bisogna attendere il ventesimo quando De Caro colpisce il pallone con la mano in aria. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e dal dischietto Saraniti non sbaglia e firma il momentaneo 3-2. Dopo il nuovo vantaggio la partita si incattivisce e ne fanno le spese in quattro Caruso, Grimaldi e Salentini, Montervino e Rizzo che vengono allontanati dal terreno di gioco tra lo stupore generale. I nerazzurri ci provano in tutti i modi, Tomi impegna severamente il portiere del Casalano al 33esimo, 5 minuti più tardi ancora Caro tenuto prende il pallone fuori dall'area di rigore ma sul conseguente calcio di punizione viene murato dalla barriera il tentativo di un istancabile Tomi. Nella finale in pieno recupero Sepe commette un ingenuo fallo in aria per l'arbitro e rigore di espulsione per l'uruguayano. Dal dischietto Tomi questa volta non sbaglia, firma il 3-3 con cui si conclude la partita. Appuntamento con la vittoria casalinga è rimandato per il Casalano che però questa volta è stato bello ma sfortunato.